Luigi Di Maio, sostegno di Amalia Bruni, è stato a Reggio Calabria dove ha avuto un incontro alla Camera di Commercio con gli imprenditori del territorio regino. Ad accoglierlo, oltre alla candidata alla presidenza della regione per il centro-sinistra, anche ai sostenitori del Movimento 5 Stelle con in testa Dalila Nesci. Continua il nuovo corso del Movimento 5 Stelle che sta costruendo Giuseppe Conte. Stiamo costruendo una forza politica che è strutturata, che ha i suoi organi rinnovati e che quindi possano dare nuovo impulso ad un movimento che ogni volta che viene dato per morto è più forte di prima. Credo che anche le piazze che sta riempendo Giuseppe in tutta Italia rappresentino un grande segnale del fatto che c'è un grande fermento sul territorio anche intorno ai nostri candidati. Io sono molto contento di essere qui a sostenere Amalia, la professoressa Amalia Bruni. Io sono veramente orgoglioso di questa candidatura qui in Calabria, sono qui per parlare con le imprese alla Camera di Commercio di Reggio Calabria e parleremo di eccellenze di questo territorio, del fatto che la Calabria nei primi sei mesi, il trend dei primi sei mesi dell'export delle imprese calabresi nel mondo ha un trend per cui potremo battere il record di sempre dell'export di made in Calabria di sempre. E credo che potremmo farlo anche grazie a non solo le eccellenze produttive del nostro territorio, ma la nostra candidatura della professoressa Amalia Bruni è la candidatura di un'eccellenza di questo territorio che rappresenta una regione che non ha niente da invidiare alle altre, che ha un potenziale enorme e che richiede anche un segnale importante dal punto di vista del coordinamento amministrativo. Nessuna giunta regionale ce la potrà mai fare da sola, ha bisogno di un governo che le stia accanto, ha bisogno dei sindaci che supportino la giunta regionale. Il lavoro che stiamo facendo qui in Calabria come forza politica insieme alle altre forze politiche e alle forze civiche deve rappresentare sia per il Movimento 5 Stelle ma soprattutto per la regione un'occasione di scatto. Il ministro degli Esteri anticipa di qualche giorno l'arrivo del presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte che sarà in Calabria il prossimo 21 settembre. Grazie a tutti.